allora oggi come previsto iniziamo diciamo così ad aprire l'ultimo macro argomento l'ultimo diciamo così capitolo del corso poi ci sono ancora alcune cosette sui grafi che vedremo stata facendo c'è al di là di queste due tre lezioni che faremo sulle simulazioni poi ci apprezzeremo verso la parte finale del corso che sarà concentrata essenzialmente su esercizi di simulazione dell'esame e preparazione dell'esame vero e proprio quindi la settimana prossima cominceremo a organizzarci vedere un po di date un po di attività di quel tipo prima di entrare nel discorso delle simulazioni vi devo raccontare di una struttura dati che fa parte sempre della famiglia diciamo così delle collection che viene utilizzata sotto forma per realizzare delle quella che in gergo chiamiamo coda prioritaria ossia una struttura che permetta di inserire ed estrarre degli elementi seguendo un ordine di priorità una coda che così una coda è abbastanza semplice nel senso che la coda più semplice è quella ordinata first in first out in cui hai degli elementi di cui quando arriva un elemento nuovo si aggiunge in fondo la coda e quando invece devi estrarre un elemento estrarre sempre il primo della coda quella dell'ufficio postale che si implementa molto facilmente basta avere ad esempio una linked list in cui devo aggiungere gli elementi in coda estrago gli elementi in testa quindi faccio remove del primo elemento e add dell'ultimo elemento e quindi estrarrò gli elementi nell'ordine in cui sono stati inseriti quindi una coda che mantiene l'ordine di inserimento degli elementi ma non sempre è opportuno elaborare degli elementi che devono essere magari tutti elaborati nell'ordine di arrivo a volte può essere più utile elaborarli in un ordine diverso seguendo una certa diciamo così funzione di priorità che poi ovviamente dipende dal problema oggi vedremo questa priorità nel contesto delle simulazioni in realtà lo stesso concetto ci sarà poi quando vedremo l'algoritmo di daistra per il calcolo dei cammini minimi in cui di fatto si faranno delle visite dei vari nodi del di un grafo sulla base di una priorità che è data dalla diciamo così dalla presunta distanza dall'origine quindi il concetto si applica in vari in vari casi qui l'esempio che viene fatto qua che quello su cui faremo l'esercizazione mercoledì è quello di il pronto soccorso su qualunque pronto soccorso in ospedale c'è scritto a lettere gigantesche guardate che noi le persone non le chiamiamo in ordine di arrivo ma in ordine di gravità ok per cui più è meno grave la vostra situazione più dovete organizzarvi con attese pazienti eventualmente tende per bloccare come si può implementare una coda prioritaria quindi una struttura dati in cui inserisco degli elementi e quando devo estrarli non estraggo il più vecchio il più anziano ma estraggo quello che massimizza una certa funzione di costo o chiamiamola pure priorità normalmente quando parliamo di priorità imprendiamo dei numeri che più sono piccoli più è alta la priorità quindi priorità 0 è quella massima priorità 1 2 3 sono quelle inferiori normalmente si ragiona un po' al contrario rispetto al senso comune quindi facciamo solo attenzione quando diciamo le parole massimo minimo spesso la massima priorità corrisponde al minimo valore di un certo campo quindi noi cosa potremmo fare possiamo avere una solita lista e dici ok estrai quello che è la massima priorità quindi trovo il massimo il minimo di un valore su tutti gli elementi di una lista e questo significa che devi scandirsi tutti gli elementi della lista ogni volta che estraggo un elemento devo leggermi tutta la lista per trovare il max o il min oppure esistono delle strutture dati che noi non abbiamo usato di lista ordinata che esiste nella collection non solamente linked list ma esiste anche sorted list che è una struttura dati che viene mantenuta ordinata dalla libreria stessa quindi quando aggiungo un elemento lo aggiunge già in una certa posizione però di nuovo per aggiungere un elemento in una certa posizione il tempo necessario è proporzionale al numero di elementi della lista oppure ci sono delle soluzioni più complicate ad esempio quasi ho citato l'albero di ricerca binario che è una struttura dati molto ottimizzata però è complessa da gestire e se l'ordine di inserimento è vagamente crescente quest'albero diventa sbilanciato e quindi a sua volta rischi di degenerare in una lista per dire che ci possiamo inventare tante soluzioni per implementare un albero binario è una ricerca prioritaria ma in realtà esiste una classe apposita della nostra collection framework di java che si chiama priority queue se notiamo noi abbiamo usato molto spesso gli oggetti di tipo lista quindi l'arraylist e linked list non abbiamo mai fatto caso a quest'altra interfaccia queue di cui tra l'altro linked list è un'istanza possibile è un implementazione possibile oltre a una priority queue e chiaramente una linked list va benissimo come coda fifo first in first out mentre una coda prioritaria che andiamo a scoprire invece funziona quando abbiamo dei criteri diversi dall'ordinamento ovviamente visto che c'è un'interfaccia che si chiama queue questa interfaccia offre dei metodi standard che sono implementati da tutte le classi chiaramente che implementano questa interfaccia e di fatto offre tre operazioni fondamentali ok aggiungere un elemento estrai un elemento questo remove non vuol dire solo cancella ma cancellalo ma fornisci mi anche l'elemento che è stato cancellato che è stato estratto quindi aggiungi ed estrai inserisci ed estrai e poi examine è un'operazione non distruttiva in cui dimmi chi è l'elemento più in alto con maggiore priorità il prossimo che starresti se lo dovessi estrarre ma non estrarlo ok quindi vai a sbirciare semplicemente qual è quell'elemento dimmi qual è il suo valore ma per ora non cancellarlo ancora non toglierlo dalla lista ok quindi questa è l'operazione di aggiunta queste due sono operazioni diciamo di scrittura le altre due sono operazioni di lettura una che toglie l'elemento che è stato letto l'altra che lo legge semplicemente e di queste tre macro operazioni abbiamo due varianti quella rossa e quella verde che si comportano in modo diverso a seconda che l'operazione sia fattibile oppure no cos'è quando è un'operazione non è fattibile quando io cerco di leggere o estrarre un elemento e la coda è vuota e qui non c'è nulla da leggere allora si comporta in modo diverso perché le remove e metodo element generano un'eccezione qualora tu cerchi di leggere un elemento che non c'è mentre invece poll e pick ritornano a un valore speciale tornano un null essenzialmente quando non c'è nessun elemento da leggere quindi sta a noi decidere se preferiamo chiamare un metodo che eventualmente genera un'eccezione oppure chiamare un metodo che eventualmente ritorna un null sul lad c'è meno problemi nel senso che il lad avviene sempre funziona sempre tranne quando non c'è più memoria per poter raggiungere un nuovo elemento però questo succede in una quantità praticamente irrisoria di casi cioè se arriviamo a riempire tutta la memoria del programma per gli elementi che stanno in una coda prioritaria abbiamo sicuramente altri problemi da altre parti ha senso e quindi diciamo che il fatto che possa generare un'eccezione ritornare un valore erroneo sulla parte di inserimento normalmente non lo consideriamo lo si potrebbe considerare su implementazioni particolari della coda tipicamente code di lunghezza definita quindi questa coda potrà contenere al massimo 50 elementi perché l'abbiamo scelto noi e quindi quando cerco di inserire il 51esimo non me lo lascio inserire magari per evitare di sovraccaricare la coda vengono usate soprattutto in modo asincrono qui è soltanto una slide ecco qua quindi in realtà della interfaccia Q esistono molte classi oltre a quelle che abbiamo visto nel disegno di prima a noi interessa questa qua priorità Q no che è la più semplice tutto sommato ci sono poi altre classiche non useremo ma vi accenno brevemente la filosofia che sta dietro alcune hanno un nome strano che si chiama deck deck scritto così non c'entra niente col mazzo di carte che si pronuncia nello stesso modo sarebbe double ended Q un'abbreviazione per double ended Q quindi vuol dire una coda a due direzioni con due teste in un certo senso quindi sono un deck è una coda in cui posso alternativamente indifferentemente inserire in testa inserire in coda e stare dalla testa e stare dalla coda quindi può funzionare indifferentemente come first thing first out o come last thing first out a seconda di come vuole mentre invece una linked list e altri tipi di code sono code normalmente unidirezionali inserisco da una parte e estraggo dall'altra questi sono le deck sono tipicamente le code sequenziali cioè gli elementi li estraggo in ordine di inserimento vedete che non c'è la parolina priority priority ce l'abbiamo solo in queste qua in fondo e poi esistono tutta una serie di ampia famiglia di code che a noi non interessano che sono pensate per applicazioni asincrone noi useremo le code per gestire gli eventi in una simulazione ma molto spesso una coda viene usata per fare collaborare tra di loro parti di programma che tra di loro evolvono in modo asincrono quindi il programma elabora dei dati una parte del programma elabora dei dati un'altra parte deve usare risultati per farne qualcosa e come fanno a passarsi i dati l'una con l'altra se vanno avanti velocità diverse non sono sincronizzate e uno dei modi diciamo così più tranquilli meno pericolosi è quello di costruire una coda in mezzo in cui nel primo programma nella prima parte del programma quando gira un dato nuovo lo butta dentro la coda e dall'altra parte del programma quando ha tempo di elaborare estrae il prossimo dato della coda e lo elabora quindi questa coda poi rischia di funzioni un po' a fisarmonica perché a seconda che la prima parte del programma sia più veloce della seconda questa coda tende a crescere oppure viceversa se la prima parte è più lenta della seconda la coda tende a ridursi o le cose possono anche cambiare nel tempo e quindi è una sorta di buffer elastico che permette di non perdere i dati ma non obbligare le due parti del programma ad aspettarsi in nessun momento le parti del programma si aspetteranno solamente quando chi legge trova una coda vuota e quindi non c'ha nulla da fare e deve aspettare che chi scrive scriva qualcosa oppure viceversa chi scrive trova una coda piena perché in quel caso lì in questo contesto ha senso mettere un limite massimo al numero di operazioni in sospeso e allora quando cerco di scrivere in una coda piena devo un attimo aspettare che ci sia almeno un posto vuoto cioè che il consumatore che consuma queste informazioni ne estragga ne cancelli almeno una quindi questi sono meccanismi vedete che c'è una parolina blocking che dice proprio che uno dei due viene bloccato quando l'altro non è pronto e ci sono le varie strategie per dec oppure queue oppure eccetera ma non entriamo in questo perché fa parte ci interessano solamente se avessimo effettivamente diversi thread di programma che devono comunicare tra di loro e noi non arriviamo a questo tipo di applicazioni quindi non abbiamo bisogno di queste altre famiglie di core rimanendo sulla classe che interessa di più o no è la priority queue che è una classe sincrona quindi è pensata per essere usata in un singolo thread cosa abbiamo? Abbiamo il costruttore abbiamo i metodi add, pick e remove qui non ho riportato offer perché abbiamo detto non ci interessa non ha una dimensione massima questa classe e quindi non ha senso di andare a vedere non può fallire l'add diciamolo così con parole semplici può essere iterata posso avere il size e sono i soliti metodi questo qua non è priority queue non è un'istanza di lista non implementa tutti i metodi di lista quindi ad esempio non c'è il metodo get cioè non posso chiedere qual è il terzo elemento della coda non si può se voglio posso chiedere qual è il primo e basta con un offer oppure con un remove con un pick oppure con un remove mi dici qual è il primo ma se voglio sapere qual è il secondo non si può l'unico modo per sapere qual è il secondo elemento è togliere il primo e poi chiedere successivamente quale sarà il primo questa limitazione se la voglio usare come coda in realtà non è una limitazione permette di avere un'ottimizzazione anche abbastanza forte della struttura dati interna quindi si vede che le operazioni qua con questa notazione avvengono quasi tutte in tempo costante costante vuol dire indipendentemente dalla lunghezza della lista della coda tranne l'estrazione di un elemento l'inserimento di un elemento che avvengono in un tempo proporzionale al logaritmo del numero di elementi quindi non cresce nemmeno linearmente con il numero di elementi se una coda di mille elementi di diecimila il tempo necessario per aggiungerne uno per restarne uno non è proporzionale a mille o diecimila ma proporzionale al logaritmo di poi logaritmo in che base non mi interessa perché visto che parliamo di proporzionalità è dentro la costante di proporzionalità la base del logaritmo e quindi molto più efficiente rispetto a quello che potremmo ottenere con una lista cercando il massimo e il minimo inserendo un elemento nella posizione giusta come fa qui non entriamo nel dettaglio come fa una priority queue a darmi delle operazioni in cui mi trova il minimo di un set di elementi senza neanche guardarli tutti perché dire che proporzionale al logaritmo vuol dire questo vuol dire che supponiamo che lo scordo al logaritmo facciamo finta che sia in base 2 se io ho mille elementi il logaritmo in base 2 fa 10 vuol dire che lui guardando 10 elementi mi dice qual è il più piccolo tra mille e come fa? come fa? li tiene organizzati bene li tiene organizzati con una struttura di dati particolare che si chiama HIP HIP sembra dare l'idea un po' di un mucchio disordinato è disordinato ma non troppo un HIP che cos'è? una struttura ad albero binario quindi un albero con una radice binario ogni nodo può avere massimo due figli e la regola di un HIP è che ogni nodo diciamo così il valore in ogni nodo è minore del valore dei suoi due figli diretti quindi 10 è più piccolo sia di 20 che di 80 80 è più piccolo sia di 85 che di 90 però ad esempio tra i due figli figlio di sinistra e figlio di destra non c'è nessuna relazione infatti vediamo che ad esempio c'è un 99 che è messo qua diciamo così nel ramo di sinistra che è più grande di 80 di 85 di 90 che sono sul ramo di destra cioè non posso non è un ordinamento assoluto per cui da sinistra verso destra vedo numeri da piccoli a grandi o semplicemente un vincolo immaginate che ciascuno di questi archi ci sia scritto minore uguale 10 minore uguale 20 20 minore uguale 40 40 minore 50 eccetera quindi dall'alto verso il basso i numeri crescono detto al contrario il numero più piccolo è sempre la radice quindi questa struttura dati garantisce che se io voglio sapere qual è il numero più basso ce l'ho la radice sempre quindi basta prendere la radice dell'albero quando aggiungo un elemento immaginare dovrei raggiungere che ne so non so cosa manca qua 70 allora il 70 dovrò trovare un posto dove metterlo questo è un albero binario quindi non posso aggiungere un terzo figlio qua sotto ok quindi dovrò dire guarda il 70 sicuramente è un figlio di 10 vado a vedere se mi conviene metterlo a sinistra o metterlo a destra in questo caso deve essere minore di 80 o maggiore di 20 quindi potrei metterlo qua ad esempio come figlio destro di 60 ci sta bene oppure potrei metterlo qua in mezzo metto 10 70 e poi come figlio di 70 c'è 80 che ci sta ci sono vari modi di posizionarlo perché il vincolo di questo albero è molto leggero questo vincolo basta che si rispetti il minore dimmi c'è un criterio con cui preferisce sì 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 io ho detto potrei farlo in modo diverso in realtà lui ha un algoritmo ben preciso che di fatto praticamente lui prova a posizionarlo qua ecco vedete che questo albero ha una caratteristica particolare tutti i livelli sono pieni pieni zeppi e l'ultimo livello è pieno da sinistra ok quindi io non avrei mai un nodo qua sotto il 90 isolato per avere un nodo sotto il 90 dovrei avere prima quelli sotto il 85 e aver riempito quelli sotto il 60 quindi un albero pieno denso quindi praticamente non voglio entrare nell'algoritmo del leap quando aggiungo un elemento cosa faccio lo metto qui 70 70 quindi nella prima posizione libera questo caso soddisfa già tutti i vincoli perché è maggiore di 60 sta fermo lì se volessi mettere questo è un 30 provo a metterlo qua vedo che poi il 30 non soddisfa la condizione 60 e allora scambio il 30 con 60 scambio padre con figlio avrò 60 qua sotto 30 qua sopra e sta bene lì perché avrò 20 che è più grande di 30 30 che è più piccolo sia di 65 che di 60 quindi ho operazioni in cui metto lì un nodo e poi faccio degli scambi locali che sono al massimo log n cioè il massimo numero di scambi che farò è il numero di livelli di questo di questo heap e alla fine avrò una struttura dati che ancora ha la proprietà dell'hip cioè il minore uguale a scendere ed è sempre compatto il fatto che sia compatto tra l'altro a livello implementativo fa sì che questa cosa qua in realtà non viene non viene implementata come grafo come albero ma semplicemente come array perché io so che il primo elemento dell'array corrisponde alla radice i successivi due corrispondono alla prima riga i successivi quattro alla seconda riga i successivi otto alla terza riga e quindi non ho bisogno di rappresentare esplicitamente tutte queste frecce un array lineare in cui so esattamente la posizione 94 di quest'array a quale vertice virtualmente corrisponderebbe dimmi se per esempio dovessi inserire 15 dovessi inserire 15 vado avanti ricostivamente quindi metto il 15 qui non sta bene quindi lo scambio con 60 poi lo confronto col 20 non va bene lo scambio ancora col 20 se inseressi 5 lo scambierei a sua volta con la radice e andrebbe a finire nella radice quindi l'IP è la struttura in cui si implementano le Q la IP è la struttura di dati interna alla priorità di Q quindi noi non lo vediamo questo ok è una struttura di dati particolare diciamo così che permette di avere operazioni molto efficienti quando queste operazioni sono semplicemente aggiungi un elemento in ordine ed estrai il minimo e questa è la struttura di dati più efficiente per farlo estrarre il minimo significa estrarre il 10 chiaramente lo cancello e la nuova radice chi sarà? sarà il 20 e se la nuova radice è il 20 però poi tutto questo pezzo qua dove lo vado a mettere? e beh anche lì lo appendo da qualche parte e poi dell'operazione di aggiustamento se andate a prendere un libro di algoritmi cercate il HIP di far vedere tutti gli algoritmi per inserire fa fare due operazioni estrai il minimo e aggiungi un elemento le altre operazioni non sono supportate qua perché porterebbero a dover visitare tutto il grafo che non è se dovessimo fare altre operazioni oltre a queste due non sceglieremo un HIP come rappresentazione questo per darvi un'idea essenzialmente di cosa sta dietro le quinte ma non come dicevo non ci fidiamo che funzioni e che ci dia essenzialmente questa velocità di utilizzo facendo la paghiamo come su una scarsa versatilità posso solo fare add e remove basta capite perché non posso fare get del quinto elemento come faccio a sapere qual è il quinto elemento in ordine qua non c'è un ordine assoluto ok ovviamente parlando di libreria se ho una classe priority queue questa potrà accodare solamente elementi che si sono tra i loro confrontabili cioè deve avere una funzione di confronto quindi o l'elemento che inseriamo nella coda ha un ordinamento naturale quindi implementa comparable e quindi ha il metodo compare to oppure se vogliamo creare una priority queue con un criterio di confronto diverso basta semplicemente passare a un comparator una classe comparator nel momento in cui creiamo la coda quindi quando creiamo una priority queue o lei cerca di lavorare con l'ordinamento della natura degli elementi oppure lavorerà con il comparator che diamo noi se vogliamo fare un override di questo è chiaro che l'ordinamento non lo posso poi cambiare dopo che l'ho creata la coda perché si crea l'ip in quel modo cambiare significerebbe ributtare via tutto e ricostruirlo da zero che non è un'operazione efficace e quindi non viene implementata se vogliamo ce lo facciamo noi ributtando gli elementi dentro un altro hip questa è la struttura dati che ci serve per cosa? per implementare algoritmi che abbiamo chiamato qua di simulazione ad eventi discreti ok? allora noi abbiamo trovato questo è un po' se vogliamo il il lato opposto rispetto alla ricorsione la ricorsione abbiamo visto che è un metodo brutale in cui dato un problema proviamo tutte le possibili soluzioni una volta che l'abbiamo modellato e alla fine troveremo di sicuro quella che massimizza diciamo così la nostra funzione obiettivo dove però la frase troviamo di sicuro magari la troviamo tra 200 milioni di anni ecco questo è l'unico difetto che tende ad esplodere rapidamente come tempistiche quindi va bene è veloce da implementare la ricorsione in alcuni casi da dei risultati in fretta altri casi da dei risultati in tempi diciamo così geologici e quindi non è utile ci sono però altri casi in cui vogliamo magari non conoscere o avere un algoritmo che mi dia la soluzione io magari una soluzione a un problema la conosco la intuisco la immagino alla fine siamo ingegneri quindi alla fine dobbiamo un po' pensare quale potrebbe essere la soluzione e però dobbiamo valutarla io ho l'alternativa A l'alternativa B quale sarà migliore non sempre riesco magari a modellare tutto matematicamente applicare il metodo della ricerca operativa che alla fine mi dicono che 3,22 è maggiore 3,21 e quindi questa soluzione è meglio di quest'altra molto spesso quello che si fa su sistemi complessi si costruiscono dei modellini semplificati e si cerca di capire l'impatto delle nostre scelte di progetto su questi modellini a volte lo fai in Excel per dire metti dei dati dentro e poi provi a cambiare alcuni parametri e vedi quale è il risultato sicuramente ci hai messo dentro delle formule che non tengono conto di tutti i fattori di alcuni ma magari già con alcuni fattori riesci subito a capire che è una soluzione preferibile a un'altra magari è preferibile che insomma trasportare via autobus piuttosto che via nave perché ti hai fatto conto dei tempi dei costi delle modalità eccetera eccetera se invece ti accorgi che le informazioni che ci hai messo nel modello non ti permettono di avere una risposta chiara devi passare a un modello più complicato più articolato più preciso però quello che stiamo facendo sono dei what if delle simulazioni se il sistema si comporta in questo modo e ci metto dentro questi dati di input più o meno cosa salta fuori come output e come dicevo non sempre riesco a fare un modello matematico ma molto spesso è più facile fare un modello descrittivo cioè dico simulo che cosa succede soprattutto quando questi sistemi possono essere sistemi che dipendono dal tempo e hanno delle interazioni al loro interno perché finché tu dici io suppongo di fare valutare quanto tempo e quanto costo ci vuole trasportare la merce via auto via tir via gomma oppure via nave e queste due valutazioni sono fatte in astratto se il tir fosse l'unico al mondo le strade fossero libere quanto tempo ci mette però se io devo mettere insieme un sistema di trasporti in cui magari il numero di tir che ho è limitato nel tempo quindi uno non posso prendere quello successivo se non è tornato quello precedente o cose di questo genere le cose cominciano a incasinarsi non posso più fare un modello semplicissimo devo capire ok vediamo un attimo il tempo di andata e di ritorno poi magari ci saranno degli imprevisti perché il tempo di viaggio non è mai una costante esatta è sempre una variabile stocastica magari c'è lo sciopero magari buca la gomma magari si rompe il motore allora una volta ci mette due giorni l'altra volta ce ne mette tre e quindi rimane bloccato tutto in attesa che arrivi il mezzo c'è una serie di fattori che possiamo descrivere facilmente immaginare descrivere facilmente parole ma se tu provi a scrivere sotto forme di equazioni impazzisci ce la fai si complica allora anziché scriverli sotto forma di equazioni proviamo a scriverli sotto forma di esperimenti computazionali cioè facciamo un programmino che simula cosa succederebbe se e ci permette di esplorare vari scenari cioè un strumento di simulazione mi permette di condurre degli esperimenti su un modello modello che sarà più o meno accurato a seconda del tipo di precisione di cui ho bisogno e come sempre io ripeto lo rendiamo in tutti i contesti le cose le rendiamo più complicate se vale la pena perché se si può partire con qualcosa di semplice e ci dà già le risposte che ci servono è inutile complicare ulteriormente e sperimentare con un modello non mi dà le risposte non mi dice ok la soluzione ideale è questa però mi permette di provare varie soluzioni e di capire qual è quella migliore per me anche perché di nuovo non tutto è riconducibile a una funzione di costo unica il bisnonno riparetto già lo sapeva non c'è una variabile sola che massimizzando la quale ottiene la soluzione ottima è ottima rispetto a che corre rispetto a 12.000 fattori che devi in qualche modo controbilanciare e questo lo puoi fare solamente ragionando sul problema quindi qui ho uno strumento che mi permette di mettere dentro dei numeri vedere come evolvono le cose vedere raccogliere uno o più output e poi alla fine decidere quindi alla fine chi decide sono io e chi immagina gli scenari sono io ma ho uno strumento che mi permette di valutare le conseguenze sulla base di un modello che mi sono costruito quindi mi permette di fare appunto le analisi what if esplorative cioè un sistema che mi modella con un algoritmo che mi modella un sistema è un modello più o meno approssimato di un sistema io definisco uno scenario cioè degli input lui frulla e mi dà dei risultati e io sulla base dei risultati che ho ottenuto eventualmente modifico valuto scenari alternativi e esplorando questo riesco a capire avere una comprensione intuitiva diciamo di come si comporta questo sistema allora vedo che modificando una variabile in realtà non cambia nulla quasi nulla il risultato quindi mi accorgo che magari la sensitività di una variabile è abbastanza bassa mentre quella di un'altra è abbastanza alta a me vengono sempre in mente questa cosa questa figura quando vedo che saltano fuori magari le nuove regole qua al Politecnico sugli esami sugli appelli eccetera eccetera e mi chiede ma c'è mai nessuno che si è messo lì a valutare qual è l'effetto finale delle varie cose perché magari a volte ma succede spesso si mettono in piedi delle macchine enormi di una complessità enorme e poi alla fine il risultato è che 0,1% di esami superati in più o cose di questo genere quando magari appunto ci sarebbero altri tipi di scenari che permetterebbero di avere un risultato migliore quindi voi per favore quando fate degli ingegneri cercate di farlo in modo oggettivo data driven e non basato sui proclami ok vabbè questo approccio qui ci permette di esplorare poi vediamo come fare a costruirlo ovviamente non è una cosa in cui schiacci un bottone me ne vai me ne vado e torno un romanico risultato richiede del tempo richiede dell'esplorazione richiede ma di fatto è uno strumento di ausilio al ragionamento non è che sia uno strumento di automazione e poi ovviamente ogni sistema il modello di un sistema è diverso dal modello di un altro sistema quindi non è facilmente generalizzabile ma questo per carità è normale in certo senso ci sono varie situazioni ciascuno delle quali si comporta in modo diverso io devo costruire un modello che sia più o meno aderente il più possibile aderente alla realtà se io volessi fare un modello più generale e magari riusarlo in tanti contesti magari uno vuole vendere un prodotto di ottimizzazione di simulazione allora fa dei modelli che più o meno siano adattabili quindi sono riusabili ma poi ti danno un risultato poco poco preciso oppure fai un modello più preciso allora ti dà un risultato che però funziona solo in quel caso particolare poi magari cambia qualcosa che ne so arriva all'ora legale per dire una stupidaggine e i risultati di quei modelli non valgono più perché erano fatti tanto bene su quel caso particolare da perdersi diciamo da diventare non più validi se cambia anche solo una piccola variabile qui è un po' diciamo così un'arte di compromessi su quest'idea qua come dicevo molte cose le posso fare in Excel o cose di questo genere oppure addirittura ci sono dei programmi appositi per fare questo tipo di operazioni noi ovviamente proveremo a fare dei piccoli simulatori scrivendoci da soli in Java quindi capendo più o meno come come lavorano finora è stato molto generale modello di un sistema e di cosa stiamo parlando in realtà c'è un'infinità di variabili o di tipologie di sistemi diversi un sistema potrebbe essere che ne so è un sistema meccanico oppure un ponte in cui voglio simulare le deformazioni quando passano sopra le auto oppure i camion allora in quel caso è un modello che è matematicamente molto complicato devo andare a vedere tipicamente sono modelli a mesh tridimensionali in cui vado a vedere le deformazioni dei materiali quindi devo avere dei modelli di comportamento materiale nel tempo e negli spazi ecco questi sono tipi di prodotti in cui la simulazione deve essere praticamente nel continuo delle funzioni di deformazione che devi stimare di fatto sono quando tu le scrivi sono tutte equazioni differenziali bastardamente non lineari e quindi tipicamente non riesci a risolvere in modo analitico le risolvi in modo approssimato numerico è un tipo di simulazione ipotizzo un certo tipo di traffico e vado a vedere le deformazioni se stanno all'interno di certi range questo è molto specifico perché il 90% del lavoro sta nel scrivere le equazioni e avere un motore di risoluzione di sistemi di equazioni differenziali esistono di solito dei prodotti per fare questo ottimizzati per questo tipo di simulazioni tra l'altro simulazioni di questo genere sempre portando avanti l'esempio sono chiaramente di tipo stocastico cioè non ha senso simulare come si comporta questo ponte quando passano tre autobus e un camion e basta devo avere un modello di arrivo del traffico che sarà un modello probabilistico e quindi vedo come si comporta rispetto a un andamento non esatto non preciso sì potrei fare delle cose semplici se passano un camion vado a vedere cosa succede passano tre auto di fila degli esempi concreti specifici ma poi mi interessa vedere rispetto a un carico generico quindi tipicamente l'input di questi sistemi non è deterministico ma è probabilistico o stocastico che dir si voglia oppure se sto modellando qualche cosa tipo pensate ai mercati finanziari allora non ho mai un modello esatto di come il mercato finanziario risponde ma posso avere dei modelli probabilistici normalmente succede questo ma al 10% delle volte succede il contrario quindi questi modelli hanno dentro della probabilità o negli input che ricevono o nelle loro risposte interne ovviamente la stocasticità nasconde sempre l'incertezza se c'è un fattore che io non so conoscere con esattezza posso o mettergli un valore fisso e sperare oppure mettergli un valore variabile ballerino stocastico e vedere cosa succede lasciando che questa variabile possa oscillare se avessi un modello più preciso magari riuscirei a metterci una funzione che calcola il lavoro esatto ma tante volte non lo so non è possibile oppure non ho le conoscenze per farlo oppure non mi conviene farlo allora molte volte appunto dove ho dei parametri che non sono noti ci metto dei range statistici e vediamo come si comporta il modello ragionando sempre ingegneristicamente un modello deve essere comunque abbastanza robusto per poter tollerare degli scostamenti rispetto ai valori nominali degli input e dei suoi parametri interni quindi non è tanto male farli comunque oscillare questi valori vedere se il modello regge lo stesso o se no se diverge verso infinito vuol dire c'è qualcosa che non va bene noi rimarremo su un tipo di modelli in cui il tempo viene concepito in modo discreto e non continuo come invece gli esempi che ho fatto finora per semplicità un sistema discreto è un sistema in cui l'evoluzione nel sistema cioè il cambiamento dei suoi valori dei valori interni avviene solamente a determinati istanti di tempo discreti specifici puntuali mentre per tutto il resto del tempo non capita niente quindi noi non avremo un'astra dei tempi in cui ci sono tutti i tempi possibili ma avrò alcuni istanti di tempo in cui succede qualcosa tra un istante di tempo e l'altro mi verrebbe a dire non succede nulla in realtà devo dire non succede nulla di interesse per il modello quindi tutte le variabili che vengono rappresentate dentro il modello non cambiano valore e quindi di fatto non mi accorgo di nulla ok? facciamo l'esempio che dicevamo prima sulle regole degli esami e questo è un tipico sistema discreto in cui ciò che interessa è uno studente quando si iscrive un esame quando sostiene l'esame quando lo passa e ci sono alcuni momenti che interessano per capire qual è la dinamica diciamo così tra frequenze esami appelli eccetera eccetera le dinamiche scusate plurali poi il fatto che voi passiate i pomeriggi a studiare o le notti non interessa ai fini di questo modello che cerca di capire quali sono diciamo così le regole di esami migliori o l'organizzazione didattica migliore magari un pochino interessa nel senso che ne teniamo conto in un modo secondario cioè se io ho gli appelli più vicini probabilmente devo mettere dei fattori che dicono che è più improbabile passare tanti esami vicini rispetto a esami di vita di loro quindi ci saranno dei parametri che tengono conto di questo ma non mi interessa esattamente ciò che succede di giorno in giorno e di ora in ora identifico dei fenomeni specifici e mi concentro solo su questi chiaro che dipende da quale sistema sto rappresentando ma molti sistemi organizzativi funzionano in questo modo funzionano si possono modellare in questo modo senza perdere troppa informazione ci può convenire modellare in questo modo ci sono alcuni passaggi e io vado a registrare a fotografare questi passaggi tra uno e l'altro di questi passaggi non succede nulla per definizione e quindi non mi interessa modellare il tempo non ho come nella risoluzione numerica di un'equazione differenziale un delta t piccolino che va a cercare di integrare le funzioni no io qui salto da un punto a un altro l'altra variabilità che è indicata qua è se sistema è statico o dinamico cioè se la risposta del sistema dipende solo dai suoi input oppure dipende anche dal tempo cioè se io do uno stimolo al sistema oggi alle 11 la risposta del sistema è uguale rispetto a se dessi lo stesso stimolo oggi alle 17 dipende ci sono alcuni sistemi in cui la risposta dipende dal tempo altri no chiaramente i primi sono più facili i secondi sono più interessanti allora rimaniamo noi quindi ci mettiamo tra tutto questo diciamo mondo della simulazione ci mettiamo in una nicchia in cui parliamo di simulazioni di sistemi discreti e dinamici quindi il tempo può giocare è una variabile diciamo così che può entrare in gioco ma entra in gioco solamente in alcuni istanti di tempo specifici non abbiamo un tempo continuo e i modelli che impariamo a costruire possono essere sia deterministici che stocastici cioè qua e là ci mettiamo una random che permette di simulare una variabilità dimmi se noi ci vogliamo immaginare una funzione di output di questo modello questa funzione sarà costante a tratti in un caso di un modello discreto quindi che non vuol dire che poi il sistema reale abbia delle fatti costanti ma noi non andiamo a guardare quindi vediamo un output a un certo punto poi in un certo istante di tempo salta di solito questi istanti di tempo saltano diciamo così cambiano più funzioni all'interno del modello allora se è così quindi siamo in un tempo discreto non ci interessa modellare tutto il sistema tutte le variabili di interesse del sistema in qualunque istante di tempo ma solamente negli istanti di tempo in cui cambia qualcosa allora noi ci possiamo astrarre questa idea del istante di tempo importante in cui cambia qualcosa sotto un concetto di evento abbiamo già sentito parlare di evento quando cliccavamo sui bottoni dell'interfaccia ed infatti è così se pensate all'interfaccia in JavaFX è sempre lì in tutti i millisecondi in cui la osservate ma se ne frega di voi fino al momento in cui cliccate su un bottone allora quello è un evento che deve essere gestito perché l'interfaccia esiste in tempo reale però è un sistema in cui non succede nulla fino a quando non arrivi all'istante di tempo esatto in cui qualcuno fa qualcosa o succede qualcosa e questo lo generalizziamo in un ambito simulato e non in tempo reale e quindi abbiamo una lista un insieme di eventi che capiteranno nel futuro che possono essere conseguenza di input esterni oppure conseguenza di azioni interne del sistema e gestirò appunto con una coda prioritaria l'elenco degli eventi la lista degli eventi che dovranno capitare ordinati rispetto al tempo simulato in cui questi eventi potranno succedere e quindi il simulatore cosa fa? prende un evento per volta dice qual è il primo evento che capita? allora c'è un evento oggi alle 13 e poi c'è un altro evento oggi alle 12 ok allora prendiamo quello che capita alle 12 l'altro lo tengo lo elaborerò dopo prendiamo l'evento che avviene nel tempo simulato più vicino che evento è? cosa succede? e allora vado a valutare le conseguenze di questo evento le conseguenze di questo evento saranno un cambio dello stato del sistema e anche una creazione di nuovi eventi conseguenza di quello che ho elaborato quindi il nostro modello che abbiamo in mente è così abbiamo una lista di eventi che se fosse vuota il sistema sta fermo in un contesto di event driven se non ho nulla da simulare se non ho eventi che capitano il sistema tutte le variabili del sistema stanno ferme a un certo punto ci sarà almeno un evento devo mettere in questa cosa dell'evento almeno un evento per partire per fargli fare qualcosa e ho il nucleo di simulazione che va a estrarre il prossimo evento e si chiede quando verrà questo evento a che tempo simulato e che cosa farà questo evento ci scrive un nuovo studente ho venduto qualcosa arriva un cliente è capitato qualcosa e allora il sistema reagisce se è arrivato un cliente allora magari con il 10% di probabilità non compra niente con il 20% di probabilità compra qualcosa con il 40% è un reclamo va a sapere e a seconda di quello che succede lui ovviamente aggiorna le informazioni sul sistema eventualmente genera nuovi eventi è arrivato il cliente quindi compra poi il nuovo evento è che tra un giorno arriva il pagamento o qualcosa di questo genere quindi noi dobbiamo avere stiamo pensando a un nucleo di simulazione che elabora un evento per volta che avviene nel suo tempo isolato discreto e che come esito può avere la creazione di nuovi eventi chiaramente nel futuro che poi a loro volta prima o poi verranno presi e lavorati in parallelo il sistema ovviamente tiene traccia di alcune variabili di interesse ad esempio se ho il negozio con i clienti voglio sapere quanti clienti ci sono in questo momento dentro il negozio perché magari questo influenza il mio tempo di servizio allora questa è una variabile che non è nell'evento l'evento è il singolo cliente che arriva allora se arriva un cliente io incremento il contatore di numero di persone presenti quando il cliente esce l'altro evento il cliente esce oppure ha comprato oppure se ne va allora decremento questo contatore cioè un insieme di variabili che mi descrivono io per usare un parolone l'ho chiamato lo stato del mondo cioè l'insieme di variabili che mi è sufficiente a descrivere cosa sta succedendo cosa sta succedendo tra un evento e l'altro praticamente un po' come se io potessi aprire il mondo e farci una fotografia istantanea cosa vedo lì dentro in quel momento? ovviamente posso vedere di tutto ma a me interessa modellare solamente le variabili che hanno effetto che hanno influenza sul modo in cui elaboro gli eventi magari la temperatura la previsione del tempo non mi interessano perché magari non hanno influenza sul tipo di eventi che voglio elaborare e allora non li modello modello una quantità minima di variabili che mi permette di descrivere cosa sta succedendo e di calcolare di simulare la risposta del sistema ad un evento e tutto questo è una macchina che è in grado di simulare nel tempo qualche cosa a fronte di alcuni parametri cioè non voglio fare una simulazione sola voglio fare una simulazione pensando di avere una commessa di averne due di avere negozi più grandi di avere negozi più piccoli di avere un assortimento più alto meno avere una catena di negozi per cui ci scambiamo la merce sono tutte variazioni su cui io sto studiando prima di andare in banca e chiedere un prestito per aprire il negozio e allora ho vari parametri che sono gli elementi che sto valutando parametri che possono essere anche le booleani sì no oppure diciamo così numerici ogni volta che metto dei parametri dentro il risultato della simulazione sarà diverso e quindi mi interessa andare a osservare non le variabili istante per istante ma alcune misure significative dei KPI significativi alla fine che mi dicono guarda con questi valori di parametri io ho simulato lo scenario e alla fine che ne so il tuo guadagno è tot il numero di clienti che devi mandare a casa è il 3% perché non riescono ad entrare il negozio è sempre pieno eccetera eccetera e ho delle misure sintetiche riassuntive che mi possono aiutare a ragionare ah allora questa cosa qua non mi va bene non mi piace voglio aumentare il mio margine come faccio a aumentare il mio margine vado a modificare qualche scelta di progetto rifaccio un po' di simulazioni e vado a vedere se alla fine ah sì che bello il margine è aumentato però magari ovviamente c'è sempre un però qualche altro indicatore è peggiorato e gioco con questo quindi abbiamo quattro cose qua i parametri di ingresso di tuning gli indicatori in uscita i descrittori dello stato del sistema e gli eventi che sono i descrittori delle cause delle variazioni del sistema il simulatore gestisce queste quattro cose su un asse dei tempi simulato in cui via via fa evolvere il sistema la cosa più semplice per implementare questa macchina è di pensare a questa lista degli eventi semplicemente come una cosa prioritaria come abbiamo visto finora di oggetti di tipo evento e la caratteristica fondamentale di un evento è che deve avvenire in un certo istante di tempo preciso discreto quindi l'oggetto evento sarà una classe che sicuramente avrà uno dei campi che rappresenta il tempo il tempo in cui simuliamo che avvenga quell'avvenimento e poi altri campi che descrivono cosa sta succedendo magari di eventi di diversi tipi appunto il cliente che entra il cliente che esce il cliente che protesta eccetera eccetera o tipologie diverse di eventi ciascuno dei quali può avere magari delle informazioni associate diverse l'evento cliente acquista avrà associato magari il prezzo che ha speso quindi ho degli oggetti che possono avere vari campi di sicuro ce n'è uno che mi dice a che istante di tempo avviene di sicuro c'è un altro che mi fa capire che tipo di evento è successo possono succedere cose diverse in questo istante e che cosa è successo e il simulatore semplicemente estrae dalla coda prioritaria il primo evento perché perché è quello che avviene per primo nel tempo ne valuta le condizioni e tra ciò che valuta ovviamente va a modificare lo stato del mondo va a modificare le misure di interesse in uscita e molto probabilmente va a generare nuovi eventi che vengono aggiunti e lui gira quando a un certo punto la coda degli eventi dovesse diventare vuota il simulatore si ferma perché non ha più nulla da fare quindi possiamo simulare fino all'esaurimento della coda degli eventi oppure possiamo simulare fermandoci prima magari ci sono degli eventi che si generano all'infinito ogni evento ne genera un altro ogni evento ne genera un altro a un certo punto mi fermo con le mie simulazioni perché magari ho simulato una settimana una giornata un periodo di interesse mi fermo lì anche se ovviamente ci sono ancora degli eventi della settimana prossima da simulare ma io mi sono fermato quindi le condizioni di arresto in un certo senso della simulazione sono o la coda finisce oppure il periodo di tempo che mi sono prefissato di simulare è stato raggiunto quindi gli eventi che sono ancora nella coda hanno un tempo maggiore di quello limite della mia simulazione tra l'altro il tempo io qua ho messo semplicemente i numeri interi 7, 9, 20 per indicare il tempo sarà poi una nostra scelta a seconda dei casi se avere un tempo d'orlogio reale magari ci mettiamo un local time dentro come variabile per indicare minuti ore, minuti e secondi oppure un local date se invece stiamo simulando qualcosa su più giorni su più settimane oppure magari un valore semplicemente numerico indicativo che mi rappresenta il prima e il dopo dipende dai casi sono dei casi in cui voglio effettivamente mappare gli avvenimenti su un asse dei tempi reali o invece altri casi in cui invece mi serve solamente un'indicazione incrementale che non ha nessun riferimento con un tempo reale quindi a volte basterà un integer per dire ok dimmi quindi la priorità sta nel tempo la priorità sarà sempre il tempo sì e vengono ordinati in base al tempo perché io in ogni momento tra tutte le cose che succederanno nel futuro se voglio mantenere un principio di causalità devo valutare per prima quello che succede nel futuro più prossimo ok quindi passando a a classi Java noi possiamo immaginarci una classe simulatore che ci permette di gestire queste quattro cose avrà sicuramente delle variabili questo stato del mondo altro non sono che delle variabili interne del simulatore avrà la possibilità di impostare dei parametri che sono i parametri di input quelli gialli sulla sinistra avrà la possibilità di caricare degli eventi iniziali perché se io parto con la coda vuota il simulatore non parte devo dare un avvio in qualche modo almeno un evento che ne scatene gli altri oppure un insieme di eventi che io prevedo che avverranno avrò un metodo chiamiamolo Run che fa partire tutta la macchina quindi fa eseguire la simulazione che è il metodo più importante e poi avrò dei metodi che mi permettono di estrarre alla fine della simulazione le misure di interesse qua in fondo dall'esterno non vedrò i valori delle variabili intermedie perché tanto sono cambiate 12.000 volte è un dettaglio che non mi interessa mi interessa solamente alcune misure chiave e poi tutto il cuore si baserà sulla elaborazione del singolo evento che qui ho chiamato Process Event quindi un metodo in privato in cui il simulatore sulla base dell'evento che ha appena estratto dalla coda decide quali nuovi eventi inserire nella coda e come modificare lo stato del mondo vabbè qui racconta delle cose ma le vediamo direttamente sul codice partendo con un esempio relativamente semplice Car Sharing vogliamo simulare domani vogliamo aprire un negozio di affitto auto un'attività non un negozio brutto di negozio quindi noi cosa facciamo ci compriamo un certo numero di auto NC number of cars e ipotizziamo che la nostra attività arrivi in un certo punto dei nuovi dei clienti un nuovo cliente ogni tot minuti poi qui ci sarebbe tutto uno studio da fare su qual è la probabilità di arrivo dei clienti in funzione delle ore del giorno perché è più facile che magari ti arrivi uno alle 8 del mattino piuttosto che alle 11 e mezza però abbiamo un meccanismo che mi dice ipotizza perché io non so quando arriveranno i clienti veri ipotizza quando arriveranno i clienti facciamolo facile partiamo dalla cosa più semplice frequenza costante un cliente ogni tot minuti ok e questo numero di minuti nc numero di auto t numero di minuti sono dei parametri che possiamo girare se ci sono auto disponibili quindi arriva un cliente io posso dire guarda ho ancora un'auto disponibile oppure non ce n'ho più se ci sono auto disponibile gliela presto gliela affitto per una certa durata che poi mi restituirà altrimenti non gli posso offrire nulla avrò un cliente non soddisfatto che non depone bene chiaramente per la mia attività allora qual è il suo scopo della simulazione? calcolare il numero di clienti non soddisfatti alla fine di una giornata in funzione del numero di auto che acquisto cioè qual è il numero minimo di auto che devo comprare per non mandar via la maggior parte dei clienti? e qui abbiamo provato a mettere dei numeri supponiamo che la frequenza di arrivo dei clienti sia 10 minuti però ci ho messo una costante in realtà qua ci potrei mettere una funzione dipende dall'ora del giorno dipende una funzione che non so una variabile stocastica po' assognana come vi hanno insegnato che tipicamente modellano i tassi di arrivo partiamo facili poi ci sono sempre il tempo complicato e il tempo di T-travel è il tempo per cui l'auto rimane fuori è chiaro che se un cliente mi riporta l'auto dopo 5 minuti io ce l'ho disponibile quindi posso far girare la stessa auto su più clienti e quindi ipotizziamo che magari il cliente possa tenere l'auto per un'ora o due o tre scegliendo a caso tra questi tre valori il fatto che ci sia un fattore casuale fa sì che i risultati delle simulazioni non saranno sempre uguali se simulo la stessa giornata 10 volte avrò 10 risultati diversi va bene poi magari faccio la media o prendo gli estremi e vado a vedere stiamo esplorando quindi non ci interessa il singolo risultato ci interessa la possibilità di esplorare quindi questo è il nostro sistema che vogliamo semplice semplice che vogliamo modellare allora quali sono le domande che mi devo fare sono quelle quattro di prima quali sono gli eventi qual è il modello del mondo quali sono i parametri di ingresso e quali sono le quantità di uscita che devo calcolare quali sono gli eventi cosa può capitare nel mio autonoleggio può capitare che un cliente arriva e quindi o gli do la macchina oppure gli dico mi dispiace però quello avviene tutto in un istante di tempo oppure può capitare che un cliente a cui avevo affittato una macchina me lo restituisca in tutto il resto della giornata non capita niente cioè per carità i clienti vanno in giro con le mie macchine speriamo che non boccino ma per quello dicevamo a tempo discreto l'unico momento in cui capita qualcosa è quando una macchina arriva un cliente e quindi potenzialmente esce una macchina è quando una macchina rientra e quali sono le informazioni su cui si basa l'evoluzione del mio sistema sicuramente il numero totale di auto che è una costante non è che a metà della giornata compro un'auto nuova è il numero di auto disponibile in quel momento quante ne ho ancora in garage e questo variabile qua anzi confronto tra questi due valori decide cosa devo fare quando arrivo a un cliente e alla fine posso tener conto di quanti clienti ho servito e quanti clienti invece non sono riusciti a servire questi sono valori di output in certo senso sono più valori di output che parte del modello del mondo perché in realtà sapere quanti clienti ho già servito non mi modifica affatto il modo in cui mi comporto quando arrivo un cliente o quando un cliente restituisce un'auto sono semplicemente valori di cui tengo traccia ma che non uso per influenzare l'evoluzione del mio modello allora come lo possiamo implementare questo facciamoci un semplice progetto java senza interfaccia utente senza cose complicate che possiamo chiamare noleggio auto iniziamo a impostarlo possiamo crearci una classe simulatore mettiamo un package qualunque polito tdp noleggio auto facciamo una classe simulatore e da buona abitudine puoi fare una classe test simulatore con il suo main allora partiamo dalla classe simulatore abbiamo dicevamo dobbiamo definire quattro cose modello del mondo fatemelo chiamare così parametri d'ingresso indicatori in uscita e tipi di eventi tipologie di eventi e quindi è cosa degli eventi queste cose sono le variabili distanza le proprietà di questa classe allora il modello del mondo che cos'è abbiamo detto è dato dal numero di auto che ho disponibili in garage quindi private int nauto in questo momento i parametri di ingresso e basta essenzialmente è un valore che è influenzato dall'evoluzione del modello e il cui valore influenza a sua volta l'evoluzione del modello è una variabile di stato del sistema direbbe chi fa controlli parametri d'ingresso cioè ciò che l'utente può modificare della simulazione beh sicuramente il più importante è il numero di auto nc l'abbiamo chiamato numero di auto totali acquistate poi abbiamo il tasso di arrivo dei clienti che era il team si chiamava team adesso non so sarà un interest una duration è un intervallo di tempo quindi se rappresentiamo il tempo come un numero intero in minuti possiamo rappresentarlo come interest se rappresentiamo il tempo come un local time allora questo potrà essere un oggetto di tipo duration cioè un intervallo di tempo che sommiamo quindi il numero di minuti tra due arrivi di clienti e poi abbiamo la durata del noleggio quindi abbiamo private int ttravel durata minima del noleggio e poi c'era scritto da 1 a 3 1 ora 2 ore 3 ore ttravel sarebbe 1 ora tra parentesi stiamo qua nel testo ci suggeriva 10 minuti nel testo ci suggeriva 60 minuti e poi abbiamo però poteva essere un'ora 2 o 3 quindi abbiamo un moltiplicatore private int chiamiamolo multi travel moltiplicatore quanti ttravel al max posso avere quindi in questo caso vale 3 e quindi vorrà dire che quando noleggio un'auto questa potrà stare fuori per un multipo di ttravel pari al massimo ttravel moltiplicato un numero casuale tra 1 e moltiplicatore massimo di travel e potremo giocare con questi parametri qui e in uscita che ora abbiamo beh in uscita possiamo avere quei due indicatori che ci servivano cioè quanti clienti in totale sono arrivati e quanti sono stati soddisfatti o non soddisfatti int sarà tot clienti totali quindi sia soddisfatti che non soddisfatti e il totale di insoddisfatti clienti a cui non avevo auto da affittare e poi mi devo creare la variabile per gestire la coda degli eventi la coda degli eventi sarà una priority queue di un oggetto che mi rappresenta l'evento quindi dovrò anche costruirmi un oggetto che rappresenta l'evento quindi mi serve un'altra classe che visto che oggi ho tanta fantasia chiamerò evento event e questa classe evento diventa la base per costruire la mia coda degli eventi quindi avrò una coda degli eventi che è un oggetto di tipo priority queue di event quindi concentriamoci su questi eventi abbiamo detto che abbiamo in questo esempio due tipi di eventi arriva un cliente nuovo cliente e auto restituita lo possiamo modellare semplicemente così allora vuol dire che la classe evento sarà una classe che ha un time sicuramente quindi quindi i minuti di arrivo del cliente arrivo dell'evento minuti dell'evento quindi calcolati in minuti dalla mezzanotte che io decido di usare degli int poi magari il prossimo esercizio lo facciamo con dei tempi veri useremo o interi no in questo caso usiamo tutti i minuti e quindi misuro il tempo dalla mezzanotte o dall'inizio della giornata lavorativa dall'inizio giornata forse è più facile vuol dire che il primo evento è zero e quindi ogni evento sa quando avviene e poi dovrò avere un tipo e questo tipo sarà arriva un cliente oppure restituirà un auto allora come posso codificare questo tipo potrei mettere un intero cioè uno è uguale arriva cliente due restituirà un auto oppure una stringa oppure meglio ancora una enumerazione che è il modo in java di definire delle costanti simboliche questa enumerazione la posso anche definire dentro questa classe chiamiamola event type per non crearmi un altro file alla fine che definire solo questa enumerazione enum è un tipo degenere di classe in cui posso solo definire delle costanti al suo interno quindi la dichiaro anziché come class come enum e poi posso avere nuovo cliente virgola elenco delle costanti quindi auto restituzione auto poi alla fine cosa fa il compilatore java associa al nuovo cliente il valore 0 situazione auto il valore 1 ma in realtà me lo lega a un tipo di oggetto nuovo event type su cui posso tipizzare questa variabile tipo di evento potrei in generale avere anche bisogno di altre informazioni su questo su un evento in generale che ne so chi è l'utente quale auto ha preso però per lo scopo mio in questo momento che è calcolare il numero di clienti insoddisfatti chi sia questo cliente insoddisfatto quale auto abbia preso il cliente insoddisfatto direi che non ha impatto quindi in questo momento non mi serve memorizzare altri valori qua dentro mi servirà sicuramente però definire i metodi di base di questo oggetto cioè il costruttore ok il costruttore su questi due campi che ha i getter e sector e io tenderei a generare solamente i getter un evento è una cosa che creo uso e butto via non è un oggetto che deve essere modificato può evolvere eccetera eccetera normalmente quindi abbiamo imparato un pochino che magari le classi immutabili che non hanno dei setter sono più facili da usare poi se ci serve aggiungere un setter lo aggiungeremo ma non vogliamo fare i talebani dell'immutabilità ma per il momento possiamo non crearli e poi quello ci interessa di sicuro vabbè è un toString per poter vedere qualcosa e poi dobbiamo rendere questo oggetto ordinabile secondo il criterio del tempo quindi devo fargli implementare comparable di event type no non questo scusa event la classe sopra comparable di event è confrontabile con altri eventi e quindi per favore implementami il metodo compareTo che essendo questo caso degli interi basterà dire devo confrontare rispetto al tempo quindi this.time meno other.time se il mio tempo è più piccolo del tuo meno 1 si è subito un numero negativo non meno 1 un numero negativo che mi dice che questo elemento va inserito per primo nella coda prioritaria qui devo farmi la sottrazione io perché time l'ho dichiarato come int l'avessi dichiarato come classe integer avrei scritto integer.compareTo e avrei lasciato la sottrazione alla classe integer è un dettaglio quindi questa è la classettina un evento di cui ci sono tantissime istanze nella nostra coda prioritaria e proviamo a andare quindi cosa è importante qua questo ed eventualmente campi aggiuntivi si serviranno sicuramente un tempo e sicuramente un tipo di eventi queste due cose sono costanti ci sono sempre il tipo di eventi dipendono dal problema che stiamo rappresentando ecco torniamo sul simulatore e proviamo a completare un attimo questa classe il costruttore il costruttore cosa dovrà prendere come parametro dovrà prendere come parametro quelli che sono i parametri di input questi qui e basta ok quindi dovrà avere nu nc t travel multi travel e basta così quando creo un nuovo simulatore lo creo impostando i valori dei parametri e sarà dall'esterno che mi dicono quali sono questi valori io devo simulare prendendoli come costanti al mio interno non li tocco poi ovviamente quindi lui già mi fa questa inizializzazione ovviamente poi dovrò quando costruisco un nuovo simulatore inizializzarmi le altre variabili che non arrivano da fuori tipo il numero di auto è la più importante inizialmente quanto vale vale uguale a nc cioè all'inizio della giornata all'inizio della simulazione il numero di auto che sono disponibili in questo momento sono tutte ipotizziamo che non ci sia un'auto che sono rimaste fuori da ieri simuliamo una giornata sola quindi in questo caso inizializzo lo stato del mondo dei spunti numero di auto disponibili uguale tutte e inizializzo gli output che devo calcolare questi sono due contatori se voglio avere un risultato decente li inizializzo a 0 dis.totclienti uguale a 0 non ne ho ancora visto nessuno dis.totinsoddisfatti uguale a 0 e poi inizializzerò la cosa degli eventi c'erano 4 cose una me l'hanno passata dall'esterno le altre teme me le devo preparare io dis.totclienti uguale a new priority queue di event vuota chiaramente adesso manca tutto il resto tutto il resto cos'è? scriviamo solamente il signifo dei metodi poi ci rimandiamo a mercoledì sicuramente allora noi abbiamo creato un simulatore con delle costanti l'ingresso e una coda vuota ci dovrà essere sicuramente un metodo run diciamo così per eseguire la simulazione ma prima di far partire la simulazione se la facessi partire adesso si ferma subito perché la coda è vuota mi servirà anche un altro metodo per inizializzare la coda che in questo caso simula simula l'arrivo dei clienti uno ogni team e quindi popola la coda di ingresso con degli eventi di arrivo clienti nel futuro prevedo che arriveranno i clienti alle 8, 8, 5, 8, 10, 8, 20 e poi il run eseguirà questi alla fine della simulazione devo permettere all'utilizzatore di estrarre quindi dei getter il numero di clienti e il numero di clienti insoddisfatti che sono i valori che sto calcolando non li metto come se fosse un valore solo potrebbe essere il valore di ritorno di run ma visto che ce n'è più di uno run non restituisce nulla e ho i due getter che alla fine mi servono per estrarre i valori di interesse se poi voglio li metto in un oggettino restituisco quell'oggettino con tutti i valori dentro ma quello è il dettaglio ok quindi i simulatori avranno tutti questo tipo di struttura ovviamente dipende dalla complessità l'evento potrà essere più o meno complicato tutto il lavoro ovviamente avviene poi dentro il metodo run che ci divertiremo a costruire mercoledì prossimo adesso lasciamo l'aula ai colleghi